Primo giorno di lavoro per l'Arezzo in vista della trasferta in casa della Cremonese. Una partita alla quale non potrà prendere parte Zach Muscat. Il difensore maltesa ha risposto alla convocazione della propria nazionale per il doppio impegno di qualificazione mondiale del 2018. Muscat affronterà sabato a Wembley l'Inghilterra e il martedì successivo la Lituania. Il rientro ad Arezzo è quindi previsto non prima di mercoledì 12 ottobre. Da qui a sabato Sottili dovrà quindi scegliere chi affiancare ad Alex Sirri al centro della difesa. Milesi è ancora alle prese con il problema alla spalla destra che lo costringe a giocare con un tutore e Solini in caso di utilizzo andrebbe incontro all'esordio assoluto. Sul campo della nave intanto l'Arezzo ha ripreso l'attività. Una seduta incentrata sul lavoro atletico con alcune partitelle a tema su campo ridotto prima del rompete le righe. Domani sono in programma due allenamenti al mattino appuntamento al comunale mentre nel pomeriggio la squadra farà tappa nuovamente alla nave.